ragazzi vi faccio vedere che cosa mi è arrivato direttamente da Messina ecco qua allora precisamente da Milazzo in provincia di Messina in questa pasticceria dove fa spedizioni ovunque per vedere abbiamo innanzitutto questo di qua il nocciolato che sono praticamente delle nocciole tostate ricoperte al cioccolato vi posso garantire che sono spettacolari poi qui abbiamo i pasticcini di mandorla cioè in Sicilia come fai a non mangiare i pasticcini di mandorla? è un maffe oltre al cannola poi abbiamo qui i torroni misti sono il torrone nero croccante, il torrone bianco e il torrone nero morbido e poi infine qui abbiamo le scaglie di mandorla che queste sono glassate con il miele e lo zucchero buonissimo, grazie a questa pasticceria adesso vi metto su web app dove la potete trovare potete comunque prendere i loro prodotti grazie a tutti grazie a tutti